Attenta! Generale? C'è un'altra cosa che vorrei chiederti, Rover. Oh, una richiesta dal generale Jayan? Sì, puoi considerarla una richiesta personale, ecco. Se mai un giorno dovessi perire sul campo di battaglia, vorrei che piantassi un fiore vicino la città di Jinzo. Vorrei riposare vicino la città che ho promesso di proteggere. Me lo prometti, Rover? Io non ti lascerò mai morire, generale. Allora è una promessa, Rover. Tu... Andròi, giù! Tu! Tutti stanno combattendo! Tu! Cadrai! Adesso chi ha le ali, stronza? Ok, questo è stato l'editing e il recording più divertente che io abbia mai fatto su TikTok. Mi sono divertita troppo, raga. Hai! Hai! Hihihi! San